Signori, benvenuti in una nuova puntata della Progetto Zone 2 in K-Mode Allora, nella scorsa puntata, signori, abbiamo fatto il diesel generator e l'abbiamo messo a produrre energia Cosa che ovviamente, ragazzi, diciamo energia che stiamo un minimo sprecando In quanto il diesel generator produce 130.000 e rotti, forse anche di più Mentre noi consumiamo... non so manco se arriviamo a 10.000 di consumo Mentre qui, ragazzi, vedete che il mana manca dalle mana pool Per il semplice motivo che ho usato delle mana tablet per poterlo storare, diciamo Per metterlo all'interno della nostra bellissima mod della Storage Drawer Ora, ragazzi, che cosa volevo fare? In teoria, volevo imparare a volare Ebbene sì, ragazzi, ebbene sì Allora, andiamo a prenderci il quest book Anche perché è un po' una rottura di palle che io, per esempio, devo andare lì Devo fare così, 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 così Poi mettete che magari sono ancora un po' lontano dalla zona che voglio raggiungere E devo fare così No Non è qualcosa che sì, potrebbe essere qualcosa che all'inizio mi fa molto comodo Ma a lungo andare è una rottura di cacchio assurda Ma veramente, veramente assurda Per quanto riguarda le quest, ragazzi, ci manca giusto la magneticraft Che ovviamente, magari, faremo piano piano Ogni volta che dico che la devo fare, la devo fare, la devo fare Ma ogni volta la lascio perdere Qua abbiamo fatto, ovviamente, alcuni semi che devo climare Ma, ovviamente, ignorerò la cosa Quando dovremo climarli, li climeremo tutti assieme Poi qua abbiamo anche altra roba da climare Ma, la cosa più importante che mi serve, adesso, in questo momento del gioco È saper volare Quindi, dovremo fare il flight ring, qualcosa del genere Ring of light, eccolo qua Ring of light che si fa molto, quasi, semplicemente Ah, una soul vial con un pipistrello Allora, soul vial che dovrebbe essere semplice Allora, io dovrei avere del solarium Perfetto Quindi, dovrebbe essermi arrivato tutto Quindi, eccole qui Perfetto Facciamo subito la soul vial Ok Poi, qui, ragazzi, ho costruito un'altra casa Un'altra casuppola Che devo finire di arredare Tra l'altro, sì, anche quelle da finire di fare E qui, che cosa c'è? Abbiamo Le casse che abbiamo già visto Messe per mod Ovviamente ordinate per mod Le ho volute mettere qui Perché, comunque, ragazzi Avendole lì Ci mettevano veramente troppo tempo Ad arrivare le cose Quindi, ho deciso di spostarle Mentre questo è asfalt E qua camminiamo più in fretta Quindi, abbiamo la soul vial Pipistrelli Qui dentro ne ho A manetta Ora, aspettiamo che mi uccida magari tutti i mob ostili Ok Perfetto Mmm, sto cazzo di jump boost Perché livelli si bloccano qui? Ok, preso il pipistrello Qua abbiamo 54 milioni di essence Di mob essence Mamma mia Mamma mia Quanto Quante Quanto ce ne abbiamo Allora, qua mi serve un flight control unit Che si fa con dell'elettrico steel E il dark solarium Ah, vabbè, non è niente di che Dark steel dovrei averne Meteor smelting Facciamo così e così Togliti Ah, mi ha fatto il Quatticlia glass Perché non me lo manda via Abbiamo 1800 stack di glass Forse è ora di Di bloccare il tutto Ah, ah, ah Non ho bisogno di così tanto glass Cioè, 1800 stack sono molti, eh Non sono pochi Allora, ecco qua il terzo solarium Ok, qui ne abbiamo anche il dark steel L'ender pearl con il diamond Il fused quartz Possiamo fare No, non qui Possiamo fare così, così, così E così Diciamo Merda, ho fatto il conto male Mi servono altre 4 ender pearl Ah no, aspetta Forse ce li ho qui dentro Tanto non Non me ne serve così tanto Pulsanti in gyron Allora, facciamo in questo modo qui Abbiamo ender diamond No, aspetta un attimo Quanti pulsanti in gyron Cioè, quanti pulsanti in crystal mi servono? Mi servono 4 Quindi 4 per 8 32 Allora, nel mentre che magari mi fa Il pulsante in crystal Facciamo il resto No, porca miseria Un fluid transposer Devo fare Quindi machine free No, merda 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 Avevo staccato i laserini Allora, allora, allora Storehouse 1 e 2 Poi Logistic pipe Dove sono i tubi? Eccoli qua 1, 2, 3 e 4 Questo qui E' una chest Grazie Poi, per fare un machine frame Basic Vediamo Basic, 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 basic Basic, basic, basic Be, 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 be Eccolo qui Allora, mi serve Invar Energetical UI Eh, rollele Energetical UI gear Un machine cases Ad el glass Ora Io spero Un attimo Un frizzi Cosa verranno i miei occhi da elfo? Dove, 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 dove? Torcio Veloce, 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 veloce Mi sembra una torcia Muoviti Ecco Ora il mondo è salvo Allora No, merda E' lì ora ormai L'enderaio Che palle Qua inizia a buttarci Il glass Questo Poi Questo e questo Mi serve Grazie 2, 3, 4 E' stato più veloce Del previsto Pensavo di perdere Molto più tempo Invar Quattro lingotti 1, 2, 3, 4 Perfetto Qua ci riprendiamo questo pulsante in gyro Che è buono come il pane E facciamo così E possiamo iniziare a fare il dark solarium Di sta minchia Poi Quindi tutto il resto Quindi tutto il resto dovrei averlo E piano piano Gli facciamo fare il fluxed E facciamo fare il fluxed Electrum Antonio Calabro Ah mi stavo Mi stavo avendo un infarto Ho fatto il soulbinder Non ho fatto il soulbinder Perché non ho fatto Ma io ce l'avevo No forse ho fatto lo slice and spice Non il soulbinder Come cacchio si fa il soulbinder Sicuramente il machine frame Pressurized fluid tank Che si fa con il dark steel Dark iron bars E sto cazzo Anche io aggiungerei Cioè oltre che stronzo Sei pure un pezzo di Va bene Non lamentiamoci Tanto ormai dovrebbe Cos'è che ti dà fastidio Cos'è che ti dà fastidio Cosa Me lo spieghi Dark iron bars Dark steel Dark steel Dark steel Fused quartz Perché ho preso il dark glass Perché Ok Abbiamo il fused quartz Uno E due Perfetto Queste le togliamo E facciamo così Invesi capacito Iron bars Ok Abbiamo anche il machine cases Perfetto Ora Mi mancano le teste E che cos'era quello Ah il soularium Soularium Che non so se ce l'ho Ok Qua ti mettiamo a fare tanto 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 di quello Soularium Ne ho due Che 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 bello Quando abbiamo tutte le cose Non dobbiamo Spantarci Nel Nel Trovarle Nel farle Nel Nel Stoccazzarle Allora Allora Vabbè Nel Mentre Che mi arrivano Ah no Devo anche ordinare le teste E ora Ah no no Ma io posso usare anche queste Sì posso usare anche quelle Via Nami 4 di quelle teste di merda Ok Perfetto Quindi dovrei Sempre nel Q&D Maledetto Il cazzo Il giorno che ho dovuto Che mi è venuta l'idea Di fare la Project Zone No vabbè ragazzi Però a parte gli scherzi È veramente molto bella Come Modpack È forse uno dei Modpack Più complicati Che io abbia mai fatto No forse è il Più complicato Allora Quindi Solvial E Flight Control Unit 8 livelli Tieni 8 livelli Così almeno Scassi meno la minchia Quindi abbiamo Il Flight Control Unit Oh Perfetto Abbiamo un pezzo Un pezzo Del Ring Of Tu nonna Ora ce le servono Vabbè Questo È abbastanza semplice Da fare Gold E Blaze Road Grazie Ah qua Ho il Machine Frame L'ha finito di fare Però Non me ne sono accorto Di averlo nell'inventario Ok Abbiamo Il Ring Di tua nonna Magic Core Ok E qui viene il bello Perché adesso ci serve Il Fluid Transpore Oltre ad altro Dark Solarium Di sta minchia Porca miseria Ma Ma io non ne avevo fatto In più Dark Solarium Ne avevo fatto proprio Esatti Va bene Perché devo essere così Stronzo Io Veramente Non ho parole Allora Facciamo prima Il Fluid Transposer Così almeno Facciamo le cose Con Ordine Fluid Transposer Perfetto Quindi mi serve Un secchiello Copper Gear Che spero di avere Dovrei avere tutto Ok Fluid Transposer Di sta gran minchia Perfetto Lo attacchiamo qui L'energia sta arrivando Copiosa Ora Ragazzi Io sono già stanco Se devo essere sincero Sono già stanco Allora Flight Sì magari scritto Con una F Ok Quindi Fluxed Vabbè posso fare L'uno o l'altro Non è che Flux Crystal No Ah Pensavo Mi stavo già preoccupato No ma devo fare La Destabilized Redstone Quindi non mi Con No aspetta un attimo Seriamente Allora La Destabilized Redstone Nella fornace Della Tinker Si faceva Solo e discursivamente Con I I Blu Cazzo L'ho tolta La fornace Della Tinker Porca di quella Miseria Sto iniziando A sclerare Molto Dovrebbe Allora Mi serve anche questo Grazie Dovrebbe bastare Spero Che basti Quindi 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 Andiamo a fare così E così Quindi qua ti dico Che entri E mi arrivi qui Perfetto Ora mi servono I diamantini Vai Vai fammeli tutti Tanto Dei farmi solo quello Quanto me ne sprechi 200 Si non sarebbe male Usarli tutti Usarlo tutto Per Così almeno mi pulisce C'è anche il full transposer Perfetto Ok Ne abbiamo 18 Di questi Fluxo Crystal Di sta minchia A noi ci serve Ok Due di questi Quindi Uno e due Very good Oh Togliti Poi Poi Ci serve No No Io voglio morire Ma stiamo scherzando Ah no 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 Non è ridondante Vero Sì vabbè ci serve La Redstone Vattela Pigliander Q Cos'è questa cosa No 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 Aspetta un attimo Questa è semplice La fare Vero Oh Perché Cos'è Questa 20 blocchi Di 40 blocchi Di redstone Con lead Lumium E fused quartz Quindi glowstone Silver E tin Glowstone Silver E tin Ok Fammi sta minchia Di lumium Mamma mia Dovrò fare tipo 1500 tagli 200.000 Voglio morire Voglio morire Voglio morire Poi me ne servono Due Non uno Due Due me ne servono Ci sta Perché comunque Dobbiamo provare a volare Quindi È anche normale Che Allora Di queste me ne servono Due Quindi Otto di queste Otto di queste Si traduce in Parecchio Parecchio Parecchie cose E Un Dez Grazie a tutti. 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 Va bene. Grazie a tutti. E... Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.